Il Messina che arriva domani al partito di Lombardi vive un momento contraddittore della propria stagione, almeno sul campo. Buone prestazioni ma pochi punti e una classifica deficitaria sempre all'interno o poco fuori dalla zona play-out. Il Messina si presenta con tre assenze per infortuni più o meno gravi, Cominetti e Petruccia alle prese con fastidi muscolari della bubbalgia, Anadriello che risente della botta presa alla spalla nell'ultima partita casalinga contro il Monopoli, in cui fu costretta a uscire dal campo nel primo tempo. Modica recupera Marino in difesa, aprendo alla possibilità di un reparto arretrato a tre. Saranno in campo dall'inizio quasi sicuramente i due Irpini in forza al Messina, Rizzo centrale in difesa e Garofalo al centrocampo che fino ad oggi sono comportati abbastanza bene. Probabile formazione con Crabi-Cass tre pali, difesa a quattro con Lì a manetta Rizzo-Morleo, a centrocampo torna il Cassel 2004, Anselmo come regista affiancato da Frisena e Garofalo, in attacco Pedicillo-Luciani-Petrungolo con qualche chance per Mamona come centravanti di movimento.